Allora, cara Midna, io oggi mi sono pure preparato il ciuffo per assomigliare sempre di più al personaggio che mi sono fatto visto che mi hanno detto che ci assomiglio che mi devo fare il fottuto ciuffo quindi adesso dammi il controller, per favore Oggi gioco io Ma come sarebbe? Ma mi sono preparato il ciuffo e ci sono stato un minuto per un secondo per prepararmi un secondo buono e tu vuoi giocare tu? Ovvio Ok Quindi mi sono fatto il ciuffo, non ti invento Vabbè, cominciamo la missione la fuga l'incarico la fuga scappa dalla simulazione Fai all'uscita Ah ok, quindi ci vuole una bella macchina Ma puoi anche correre con i tuoi superpoteri effettivamente poi salta, salta, corri, salta, corri ma che cazzo? Ah ok, niente, non ci si può andare per via Che cosa cazzo è su? No ragazzi, ragazzi Cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? C'è pazzesco, testimoni voi, eh, attenzione, testimoni voi No ragazzi, veramente E questi sono... perché sto giocando io, ragazzi Il gioco non vuole che tu giochi Vabbè dai vai a... Intanto siamo arrivati su un mito A sto punto, a furia di bug e glitch, siamo arrivati... Allora, qui sopra Sì, salta, salta, salta Pure io, quando vado nei vari edifici in cui devo andare Sì sì, salta, salta Sì, salta, sì Perché aprire la porta? È troppo mainstream È troppo... Troppo comune È troppo comune È uno con i superpoteri per non sapere una fottuta porta La porta è bloccata ma spacca la cazzo Dai un cazzo alla porta Ma dai, ma sei un minchione Ma dai, ma sei un minchione Ma dai, ma sei un minchione Porta... What? È cava Alla grande Cosa sarà mai? Secondo te? Secondo me è una porta dimensionale Vabbè qua ci sono citazioni varie, mancano Senti bello, lo faccio quando mi pare Ma senti, ma questa chi è? Ma... Wow Cosa sono queste capsule? L'atmosfera cupa? L'atmosfera cupa si riconferma ancora dopo qualche ora di gioco Ma, ma, ma Attenzione, no dai, ma mi hanno messo un bollino minuscolo Non fanno sapere, va bene Lei non l'ha commentato per un cuore No, vabbè però è diversa Ma ha fatto benissimo Ecco, con l'ano di fuori Secondo te questo... Ancora Matrix Devo dire che sono veramente innamorato di Matrix Quelli di Volition E di Kenshi lo abbiamo visto? Bene 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 Ragazzi Dove diavolo? Oh, mi sento come un cesso Mi sento come un cesso alla stazione? Degli autobus 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 Saluticiamo un po' L'escoverit one Che non saprò mai che messaggio mi ha inviato Pre-che Stiamo registrando Ma che cammina cosí? Ricordiamo ai nostri amici di PLEAINSIDE Che abbiamo decidito di mantenere le notifiche attivate Per cogliere l'occasion per salutare chi si connetta Scusami, perchè eso abbassato? Ma è perchè tu stai essendo abbassata no è fatta apposta poi mi chiedete perchè si è fatta apposta spara spara oppure le potevi cogliere di sorpresa dai ma non mi piace sparme ma questa ora non le piace non ti piace anche questo vestito scommetto ti darei anche ragione mamma mia com'è la fisica ragazzi del dei corpi questa non si ricarica questa è una cosa positiva credo che è un'arma aliena di solito le armi aliena sono sempre delle madonne una nave spaziale l'avevamo capito però che cazzo non l'avevamo capito ragazzi cerchiamo di l'unica porta che c'è io direi di proseguire no 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 gira qua a sinistra anche adesso è spuntato bellissimo uccisione alieno colpo alle palle ragazzi uccisione alieno 2 queste cose spuntano qua sotto non le vedete perchè c'è la nostra finestrella che rovina tutto e anzi avvalora valorizza colpo alla testa ah qui non ho più i poteri pazzeschi ecco con nano così all'aria non salterei in quel modo come hai fatto qui non è salubre non è salubre non è salubre non è salubre attenzione ma si dai questi sono salti di gioia siiii e poi l'ho ammazzato e gliel'ho buttato citazioni a go go visto che ragazzi wow che vuoi chi è? no pare spaccalo e gliel'hai buttato a go da questo beh dai finora la difficoltà è abbastanza agevole la difficoltà è abbastanza fatta capisco che non giocare a una rottura di parte come fanno a guardare i gameplay no perchè infatti dobbiamo guardarti beh dai cioè perfetto puoi guardarlo su youtube però sul momento uno vuole prendere questa nostra prima si è ricordiamo mentre siamo qui oggi è un filmato un po' più lungo abbiamo realizzato tutti i vostri desideri cioè cioè stiamo facendo giocare Midna pur non sapendo lei giocare attenzione col mio personaggio siamo vestiti di viola io mi sono fatto il fottuto ciuffo e stiamo facendo durare questa puntata 20-30 minuti come ci avete chiesto ah ok quindi praticamente c'è il suo riscaldamento dell'arma in questa perchè è una specie di arma con plasma roba del genere la cavolata di quest'arma è che praticamente eh che praticamente che non lo so non mi da la sensazione di un'arma che non le da la sensazione di un'arma ragazzi e poi si stanno avvicinando sparandella testa non dello scuro bene raffreddarlo ragazzi io mi ritirerei per deliberare arrivederci come giudice di forum come qualsiasi buona pasqua non dalla mano yeah non stai pensando quadrimensionalmente che bell'uomo ragazzi sempre il fuori che bell'uomo era sincero ma dai che no attenzione ragazzi è arrivato un luffo pazzesco luffo detto madonna stai giù capo ma non è uno è qualcuno dei miei è qualcuno dei saints è uno dei nostri fortudissimi saints questo è il minaccio no 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 saints è pierce non durandino ah Keith david che ricordiamo è il doppiatore di Capitano Anderson in Mass Effect che schifo io non toccherei quelle mani dopo tutte le volte che è un uomo nudo non lo so queste anche citazioni penso di Mass Effect perché lui doppia Capitano Anderson in Mass Effect ma guardate com'è la manovra di evasione come è stata repentina let me take the stick le facce mi comandi pure a me fammi giocare no eh non ci verso oggi ragazzi non ci verso ma questo io ti insultavo io adesso dicevo dopo tutte queste cose che abbiamo fatto per voi stiamo venendo a giocare mitnai dicendo va questo video deve essere condiviso in tutte le nazioni esatto e deve avere 5 mila milioni di visualizzazioni perché sennò possiamo anche non farne più ragazzi no ora a parte gli scherzi minacce a parte se volete proseguiamo con le minacce ma non è il caso ecco vediamo che questa è una parte che riprende gli shooter map vecchio stampo gli shooter vecchio stampo non piacciono dire dire sì sì no non piacciono le carcine nel senso sono belle ma bisogna vedere come impostare avrei voluto giocarla io andiamo avanti ecco non ecco esattamente devi girare no ragazzi bellissimo ma c'è ragazzi gli anni novanta ritornano add away con what is love ma perché parliamoci di sopra se no se no se lo se lo cassano col copyright sono fatti c'è youtube ragazzi io babbo me ne fotto anche qui ragazzi questa parte secondo me è più felice e io faccio citazioni su citazioni spero che abbia fatto un punto di controllo perché il rischio di morte è altissimo no questa what is run what is run Raiden che canta yeah go on what is love andate a vedere il video di un idiota francese che canta davanti a una telecamera no ma forse non c'è più su youtube forse non era neanche youtube no infatti ragazzi ma mi hai spiegato che c'entra questa musica no no la musica non c'è in questo contesto è bellissima sta cosa pazzisco e allora la sensoro sensoro 4 ecco ma ha cambiato stile non è più diciamo amadonna è diventato un insieme di citazioni io per le citazioni è pazzesco poi mi richiamano il 92 cioè che registro vabbè sono estremamente concentrata e spero che ci siano stati dei contenuti di controllo anzi per favore zitti che la voglia ascolti no no ragazzi lo spazio no no qui toccate un tasto qui tocca non fare più una mazza perché credo che abbiamo finito la missione abbiamo finito la missione e beh non è capito che siamo nello spazio giusto che ti rendi conto? come ci siamo arrivati come ci siamo arrivati? come ci siamo arrivati? io non lo so comunque secondo me il fatto che c'è il pizzietto qui è per una citazione a massa le minne la fanno sempre da padrone ma quello è un discorso io non le avevo neanche notate guarda un po' guardate quello che montagna che è cambiamo argomento giusto? oleg insieme a Squall Leonhardt ricordiamo? protagonista di Final Fantasy 8 ma non c'è cosa? no no pistola no ma che cosa succede? no che ancora si sto tanzando? cioè ragazzi è stato il momento più epico nella storia dei video di occhi dei fototissimi di leggi ma questo è esploso il pianeta cosa è successo? ma questo è esploso il pianeta e ci sono 7 miliardi di persone l'hai capito? eravamo distratti a pensare a what is love what is love? ma è che è esploso il pianeta? ma è che è esploso il pianeta? chi se ne è fotte? c'era what is love giusto giusto i pianeti esplodono e riimplodono non è neanche il pianeta con Travis povere è vero è vero è vero è vero è vero è vero ancora non mi piace con questo guida quando è successo che i Saints sono diventati esperti esperti, ingegneri, astronauti comunque se posso permettermi ragazzi si è stata distrutta la terra il mio parere quello più il mio parere segno allora ragazzi questo gioco ho preso per quello che è cioè in buona sostanza cazzeggio massimo però a tratti ha del geniale cioè nel senso è una genialata a parte che è giocabilissimo comunque non è forzato che mondo reale non è forzato non è particolarmente grezzo tranne quel bug schifoso che abbiamo visto prima quel che dice della merda vabbè comunque però poi ha delle citazioni dei momenti di gameplay esaltanti si si continuiamo continuiamo il mondo reale quanti G ci da? comunque vabbè il denave è sempre terminato si è proprio è gradevolissimo nell'attesa di GTA il prossimo che mi paragona se it's raw 4 a GTA non faccio niente perché non so neanche come fare è fantastico la nave ora è disponibile però veramente sbagliate a paragonarlo a GTA è vero che è sempre diciamo un free roaming anche se per adesso noi ci siamo soffermati sulla campagna principale però ragazzi è fuori dagli schemi nella maniera più esagerata e comica possibile pieno di amico Kid David chi non lo sapesse che David esiste veramente ecco come ho detto prima ha doppiato Anderson e Muscle personalizzazione ma ragazzi finalmente siamo entrati nel clou perché fino ad ora è stato una specie di tutorial praticamente abbiamo imparato a saltare a correre a congelare ma non potevo congelare solo nella simulazione c'erano i superpoteri no come? si qua non ce li avevo non ce li avevi perché hai guidato una fottutissima navicella no ma prima quando ero nudo però c'era Wally Slow ah c'era Wally Slow ah vabbè eri nudo per questo nudo è il personaggio eh la fuga perfetto completato se ne abbattiamo le palle andiamo a fare un nuovo incarico scegliamo con select scusate io so segli start allora infrangere la legge conquista un negozio conquista un negozio bene bene qua si parla sicuramente di criminalità spicciola e ci sono dimensioni scusate questo scatola non è colpa del gioco credo ma forse della console non so non so a me non so che bella che nuova bella che bella voglio dire bella bella nuova nuova nel senso questa mi pare questa Xbox 360 Elite l'ho presa ai tempi di Assassin's Creed 2 ah ok perchè la mia precedente la Pro del 2006 2005 quando è uscita che era devastata come tutte Xbox 360 Elite mi ricava i giochi e mi insultava quindi l'ho dovuta abbattere ma guidare è praticamente ripeto inutile anche se c'è la barra che indica ma voglio dire una volta che uno corre così ma guidare a che cazzo serve ecco c'era un un cluster dai noi andiamo avanti perchè poi magari le cose secondarie ce le facciamo in privata sede sede in separata sede in separata sede e ho sentito commenti come eh vabbè però graficamente ragazzi è quello che è nel senso Saints Row si attenzione il commento che ho sentito più che ho letto di più è stato sembra Saints Row 3.5 o 3.1 insomma 3 e mezzo cioè come faccio ad arrivare là? ma salta salta hai il fottutissimo super salto eh ma non penso di arrivarci ma provaci attenzione 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 ed eccolo qua è un salto pazzesco quindi quello che dico io è eh si sarà un Saints Row 3.5 magari non so se vale la pena di essere cracca il negozio ragazzi cracca inizia a craccare vale la pena di essere acquistato magari in collector's edition non saprei però però il gioco che fa divertire insomma poi fatevi vedere con gli stessi insomma se secondo voi vale la pena oppure no craccalo è facilissimo la prima ah vabbè era una cosa mi sembra che mi aspettava una cosa più difficile sicuramente alla seconda sarà una madonna oppure dalla terza insomma compra cioè tu cracchi il negozio per comprare la polizia la polizia sta prendendo di tutto per eliminarsi da sola solo a vedere come si è scagliata non mi dire che già ho finito le munizioni perchè non ci credo ma no ma la ruota delle armi non ce l'hai cioè dovresti scegliere dove si potesse scegliere esatto o solo questo ebbè è facile dire ah ma io avevo il congelamento ho congelato la macchina hai congelato la macchina è passata una signora senza indumenti va così per la serie facciamoci qualcosa non si fa per farsi vedere su youtube adesso questa signora che se lo dico non è molto furbo ammazzarlo e poi congelarlo cioè giusto se lo vuoi conservare ecco per consumarlo più tardi io non ho fatto i tutorial quindi devo provare un attimino spaccalo bene 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 stavolta hai congelato il tutto quello che prendo prendo e hai preso pure la macchina cosa? cosa? ah erano alieni che si erano impossessati credo che dopo gli alieni ecco si sono trasformati in z si ho ucciso una persona per sbaglio e mi dispiace effetto è per rotolato un vigile del fuoco quello che è si però il caricamento è veramente ogni due secondi ma escono da lì guarda dalle fottute pareti escono dalle fottute macchine in questo caso questi sono i portali distruggi portali il centro commerciale portali qui a catania lo dobbiamo distruggere cazzata questa va capiranno solo due o tre persone distruggere distruggere un fottutissimo portali alieno con una pistoletta giocattola e lo so ma non altre armi che dovrà però ce l'hai fatta devasta devasta ammazza spacca però bisogna un po' di seguire killa killa etta gramma il mio campionario di battute idiote penso che si sia esaurito no ma era una bella cosa ok istruzione portale si però quelli sono cattura seed comandante vai da quello fottitene tutto il resto vai da esattamente esattamente mmmm supponuco bene 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 oh dai 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 spacca 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 è velocissimo questo è il più veloce di me grande ragazzi nooo come l'ha distrutto col pugnetto col pugnetto fantastico uccidi questa anzi non lo uccide lo tratta ragazzi non vogliamo incoraggiare i trattamenti gratuiti si possono fare acquisti e abbiamo finito hacker planetario completata ragazzi questo gioco diventa sempre più fottutissimo fottutissimo non c'è altra esperienza alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.